Bentornati a tutti ragazzi e ragazze, la serie senza tempo Marco e Diego, Lazio Cagliari purtroppo finita solo 2 a 2, meritavamo sicuramente di più viste comunque il bel primo tempo e soprattutto il finale di secondo in cui abbiamo attaccato il Cagliari che ha fatto ovo. Sì, allora, si vedono miglioramenti, però non basta, in realtà io, allora, primo tempo partiamo bene, però non riusciamo a concludere, il Cagliari fa veramente poco nel primo tempo, diciamo la verità, però noi siamo un po' comunque, non so, non lucidissimi delle scelte, poi però Ciro fa un gran gol a fine primo tempo, grande assist Demirinkovic che va al fantacalcio. Mi pare no, mi pare no, detesta, pure questo, bello, molto bello il gol, anticipo, mette contro tempo Craglio, tutti belli, tutti felici, Daje e neanche se rendiamo conto all'inizio del secondo tempo che João Pedro segna. Sul grande assist di Oghiera, non mi ricordo. De Iola, mi sa De Iola, ma soprattutto, no, Marina, Marina, ma soprattutto Luis Felipe, che lo lascia, cioè stava su João Pedro, e João Pedro scarica e lui va a inseguire. Ma più che altro è un po' strano a me, vabbè, questo sì, colpa, solo con me, unicamente Luis Felipe perché doveva coerlo lui, ma sul secondo gol che viene poco dopo, di che età? Sempre, sempre, sempre in anticipo, sempre colpa degli sferiti, quello sì, però João Pedro che sta sulla fascia, vicino a, sul limite dell'aria, sulla fascia, mette la palla al centro, mezzo, e tutti i tre difensori della Lazio in linea con João Pedro la palla, nessuno che sta su, che età al centro dell'aria da solo. Ma scusate, raga, ma non c'è... Ancora una volta, sì. Ma sì, ho capito i schemi e le cose, là ci dovresti pensare, cioè, o sta quello da solo. Anche istintiva la cosa. Comunque, Luis Felipe che se lo fa scappare a João Pedro proprio da Babbeo, e forse, ragazzi, è il momento che ci svegliamo tutti da questa leggenda che Luis Felipe è forte. Cioè, perché a suo punto ho capito che fai una scivolata bella partita, però poi troppi cali di concentrazione. Rotti i coglioni! Ora saranno zitti. E quindi, capito, non va bene così, non va bene. Poi, ovviamente, allora, innanzitutto ci sta il suo pareggio, perché Cagliari cambia l'allenatore con Mazzarri, che è un altro di quelli motivatori, un altro catenacciato, insomma, che sa far quadrare i conti in difesa. E infatti, dopo il 2-1, Cagliari si chiude, combatte, non riusciamo a trovare linee di passaggio. No, lo dico, ci sta, perché comunque il Cagliari questa direzione ti interessa, e noi stiamo un po' così, in riformazione, diciamo. Però per quello che abbiamo creato, secondo me, la vittoria da… Eh sì, ovviamente dovevamo… Dovevamo… Concredizzare di più. Concredizzare. Poi, allora, ci siamo passati per ultimo, grande Danilo Cataldi. È entrato con una voglia incredibile, si vedeva subito che stava in partita. Stavamo dicendo, fa cose un po' troppo semplici, mi sembra, però almeno non sbaglia. E poi ha fatto, ha messo con la palla, gol clamoroso. Sì, il gol è bellissimo. Poi, ancora più bello, perché va a abbracciare Stracoscia da quelli che avete visto. Ricordiamo, grandi quelli dei tifosi. Esatto, infatti da salvare di questa partita, che è sicuramente questo. Hanno messo una coreografia, Dagli e Stracoscia. Non ti curare di loro, ma guarda e para. Dagli e Stracoscia. Quindi, tanto che Pello, come al solito, grande, grande la nostra tifoseria, ragazzi. Hanno cantato, dopo il 2-1 hanno continuato a cantare. Poi, ovviamente, c'è stato qualche fischio a un certo punto, perché lei va… Soprattutto per Lucas Leiva, sì. Leiva male. Cioè, il primo tempo bene, il secondo tempo è proprio calato, sbagliava, tanti passaggi. Ebbè, c'è sta comunque, perché alla fine ha giocato anche in Coppa, quindi un po' di stanchezza c'è. Però, ecco, si vede qualche manovra più ragionata e più oleata, quindi quello sì, però servivano i tre punti, ragazzi, che non sono arrivati, purtroppo. Purtroppo non sono arrivati, però, raga, per fortuna abbiamo visto che ci siamo tirati fuori da questa fossa in cui non creavamo niente. Esatto. Cioè, ci sono state tante azioni create da passaggi stretti, veloci, anche molti cross con Lazzari e con Filipe Anderson che scattavano sulla sinistra e sulla testa. Filipe Anderson, partitone. Si è calato a un certo punto, poi si è… Fino al primo tempo partitone, secondo me. Poi, vabbè, si è un po' spento, però lo sappiamo tutti. Però poi, al fine del secondo tempo, è riuscito a fare… Cioè, saltare l'uomo. Oggi saltava l'uomo, raga. Cioè, non l'aspettava. Stava in partita. Bravo Petro, grande Ciro, bravo Milinkovic, Luis, così così. Anche a un certo punto ha tirato una mina. Sì, sì, è vero, il ragno, gran parata. L'uomo di Alberto deve ancora, secondo me, trovare il posto… Il posto giusto su questo campo. È troppo abituato all'altro anno che segnava, lui vuole segnare, non lo so. Non lo so, no, ma sicuramente se deve mettere in campo, deve trovare la posizione sua con questa disposizione. Vediamo. Cerbi, buona partita. Lazzari, bene davanti, dietro, ogni volta che era un passaggio lungo, aveva capito che non è capace di rinviare. Rinviare sempre l'altro al campanile, poi si capisce perché è stragoscia. Ciao Vittorio. Ciao Vittorio, sempre. E Zaccagni è entrato non benissimo, anche se ci ha messo comunque la cattiveria, ha recuperato un passaggio sbagliato dei Sai, ha recuperato un ennesimo calcio d'angolo che purtroppo non si è riuscita… Ha fatto espellere Zappa, anche. Ha fatto espellere Zappa. E niente, comunque, sempre forza Lazio, regà. In totale, bella partita, ci è piaciuto molto questa Lazio, in realtà, guardando le partite scorse. Molto, molto no, in realtà. A me sì. C'è stato miglioramento molto. Perché a te ti sei visto totalmente il gara da Sarai, quindi a me è piaciuto moltissimo, sarà bellissima la partita da parte della Lazio. E niente, mo' testa al Torino. Testa al Torino, che come ci facevano notare in live, ha giocato venerdì e noi abbiamo due giorni di riposo in più, mi pare un po' potranno farlo giocare meno ieri o oggi, però vabbè. Va bene così, ragazzi. Grazie mille per seguirci, mettete like. Iscrivetevi, campanella, tante belle cose. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Grazie mille.